Natalia sedicenne della Juventus Nova Melso una ginnasta già messasi in luce recentemente in un grande appuntamento internazionale i giochi del Mediterraneo dove ha contribuito ad ottenere la medaglia d'argento nel concorso a squadre Italia seconda dietro alla Spagna e davanti alla Francia e è giunta quinta nella finale del volteggio grazie